Ciao a tutti amici e benvenuti con un primo video horror, io sono Fakos Game Over e oggi ragazzi siamo sul nuovo gameplay horror chiamato Horror Hospital 3 Ragazzi è un gioco proprio pazzesco, il primo video horror ragazzi che vi voglio portare raga sul mio canale Delle ricette ho portato sempre molti video ragazzi su Dragon Ball, uno di Crash Royale, ma questa volta ragazzi vi porto a giocare Prima ragazzi che partiamo con questo pauroso horror, lasciate ragazzi un bel pollizione all'inizio, seguite a TV, video come questi ragazzi sul mio canale Se vi piacere raga come prossimo video, superiamo raga minimo a meno i 3 like ragazzi, vi porto un altro gioco Ok, un altro atto a queste notifiche, giuro proprio che ti si stanno a YouTube, vabbè vado a cercare e portiamo, let's go Allora, we're at the police, requisite ospedale, we're paranormal, archiviato e pen Ah, storia, infatti, what do, fin, the hide and fly slave, ospedale, we're malice, eh, eh, they keep their way home, to explain the flies Ma allora ragazzi già mi sto cagato sotto, ah, we go go, bravo, bravo Ok Do, 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 dove sono? Ok, qua mi sembra tutto a posto Uh, un fucile, c'ho, c'ho un fucile Un fucile Dei colpi Ok Eh, com'è che si spara? Proviamo con questo Che mira di cacca Non c'ho una mira di cacca Ah, ma ci posso fare il giro tondo? Ok Ok ragazzi, già mi aspettavo qualcosa Di peggio Ma posso aggirarlo? Eh sì che posso Ah, così posso togliere l'arma No, vabbè, che figo No Allora ragazzi, già mi aspettavo qualcosa di un po' meglio Di questo, vabbè Eh, che serve qui? Eh Restore Eh, c'ho un filmato raga Quelle facciamo? Eh, abbaraccici, cocone E piglio questo Schifo Ah, una sorta di tutorial, vabbè Oh, è fin... Quando voglio cominciare qualcosa di nuovo Se per pubblicità Oh mio Dio Con la custodia di Nintendo Switch Oh New Fashion Una vacca che ha nome FG Ah, quindi sono io che guido Ah, questo raga è un filmato Bello Oh Santo e demonio Che cacchio era? Ora ospita a te Allora ragazzi Già cominciamo male Mortel Perfetto Allora ragazzi Vorrei proprio capire Chi è questo tipo Santa Maria Santa Maria La Vergine di Toscano Mi sono cagato sottoforte Ancora Un'altra pubblicità raga Proprio giuro che Sbatto un caccio Nei Lasciamo perdere raga Pensiamo solo a guardare il gioco Proprio gioco Che cacchio è successo Dai zio alzati Stai bene Ah, questo sono io Allora La grafica E tocca Capri me Allora Cosa cacchio è successo Oddio Ho investito a qualcuno No è viva Posso correre Perfetto Ok posso parlare Ezzia Eh melissa What a junior Eh Faccio cagare Scusa Non volevo I vestiti Con la moto Errore mio Mi dispiace Tiamo qui detto Perché Ma è lì Sente Ma Ma chi sono fuori Ehi Scusa Io non volevo Perché non posso Avergio You have Not been Freestyle Kit Ah Devo trovare Un kit medico Ma va Raga Già Ho fatto Le male A questa persona Ma Vorrei capire Perché Si è chiusa A porta Vabbè Ma io poi Kit T Gas Station Eh Una stazione Di servizio Menomale Intanto Raga Non so come farò Poi Raga Corre Oh C'è un altro tizio Oh Cosa vai Please Ah Per favore Aiutami Terribile I Ti Ampe Di Praticamente Successe Cosa Oh Ami 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 Ok Amici Io Obiettivo Sbloccato Ma come posso Sabare il mio account Qua ne giù Oh Perfetto Ho 5 proietti Già Raga Siamo nella cacca Ma questo Meno male Che qua vivo Ma Ma ogni volta Seba che il mio Tefo Si bug Avrei proprio Capire Perché Oh Sotto H Raga Avete Sentito Che è Stato Iiii Santo Demonio Che Che sto 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 Marona Sta Sto 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 Levat Ma No Perché Sto No Lasciami Bruttanicchia No No Le Ma Faccio Cagare No No Cori Cori Deficiente Scappa Impettito Muovati Drogato Marona Ma Raga Non so Giocare Un di Que Dove È Finito Iiii Maria Vergine Aia Cori Impettito Cori Ma Così Faccio Più Meglio Cori 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 Muovati Muovati Caggioso Po Esaurito Proietti Che cacchi P Muovati 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 Cori Aiuto 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 Fammi Entrare Fammi Entrare Fammi Entrare I popi Tutto Le mutate Ma Perché Sti Messaggi Giuro Raga Che Disinstall Telegram Marona Questi Qua De Torneo A P Marona Santana Ma Posso Per La Monta Il Bestilo No Con Questo Salto Posso Andare Dall'altra Parte Grazie Che Io Corro Di Qua No Porca Ma Che C'è Que Così Posso Correre Più Meglio Oh Perfetto Ragazzi Già Ancora La La Prossima Votta Ragazzi Si Stallo Telegram A quelli Li Prendo A Ma Lo Santa Oh Ma Perché Questo Ma E' Ancora Lì Quelli Petito Di Me Guarda Se Mi Ancora Qui Che Cosa Fa Quaffè Raga Io Non Sono Un Caga Sotto Vado A Prendere Quello Che Aveva Ok A Te Uno De Te Ma Che Che Morbida Ehi Faccia Di Menda I Guattie Tega Mitroia Cori Sabe Che Scemo Mi Vede Raga Cori 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 Bene Raga Scemo Ma Quella Cori Vai Salta Salta Perché Non Salta Sto Scemo Mi Popito Tutte Le Cori 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 Te Ficce Te Cori Perché Devono Mettere Tutti I Cori Sant'Ure Madonna Telecamera Gli Fa Miettare Aia Ma Teo Schifoso Che Vuoi Bruttamente Via 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 Va Santa Maria Vergina Raga Io Mi Sto Cagato Sotto Train Santa Marona Raga Noo Noo Guardi Su Ma Ho perso E' Problema Come Riuscivo A Chiudere La Porta Quelli Pettito E' Veduto Adosso Tengami Che Mi Sta Roppendo Le Pale Oh Mi Si Abba Di Setti Ma So Patti Aia Da Dietro Di Me Dietro Di Me Quel Pezzetto Schifo So Pacco H Cori Rezza D'idiota Ma Perché Questo Mendoza Telefono Si Baga Fatemi Attivucci L'icori Cori Ma Guarda Questo Pezzo Di Telefono Adesso Lo Vorio Oh Dov'è Quello Eccolo Eccolo Ma Raga Ci Salve Alcuni Oggetti Che Mi Se Viene Ma Io Posso Spararlo Attifem Ben Devo Prendere Ragamina Giusta Boom 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 E Motto Muori Schifoso Nessuno Scherza Con Facco Oh Raga C'è un Covono Andiamo A vedere Buono Raga Mi So Cagato Sotto Ok Ma Possiamo Sotto Santa Managlia E Vergine Santa Maria Raga Mi So Cagato Sotto No Raga Oh Visto Raga Che Que Schifoso E Motto Posso Andare A Per I Medi Kit E Aiutarla Ma Raga Non Mi So Mai Cagato Sotto Così Raga Complimenti Questo Gioco Agaffi Che Pazzesco Allora Io Devo Andare A Prendere I Medi Kit Prima Raga Controllo Per Vedersi Oh GG Munizioni Munizioni Prendi Come Posso Come Si Prendono Oh Grazie Raga Aiuto Ok Posso Stare Raga Puoi Tranquillo Eh Devo Correre Eh Muovati Corri 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 Bro Corri 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 Come Michael Jordan Yara Ma Perché Raga Devo Non Metter Sto Time Mi Fa Preoccupa Api So Qui So Qui Thank You Ne Est Ti Prego Meno Male Posso Mettere Yara Ma Si Stai Bene Cara Bene Ok Raga Diamo Ninna Diamo Ninna Diamo Ninna Ok No No Menda Sei rotta Vuota E Mo Sono andato A curare Giusto Il tempo Che Bo C Ok Raga Niente Panico Aspettate Raga Il tipo Di Prima Corri 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 Ad aiutare Quel povero Quel poverino Rico Stai Bene Sì Sta Bene Ok Raga Sono Cacchiamari Cosa Facciamo C'è Altra Roba Che Lucica Io Raga Meno Male Che Quel Tipo Di Prima Moto E Solo Capire Chi Cacchio Era Quello Non Voglio Mai Scoprilo C'è Qualcosa Che Lucica Che Cos'è Un Ossacchioto Sotto Malaria Maronna Mio Gesù Cri Ma Mi Sono Cagato Sotto Oh Iiii Curi Pettito Corri 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 E Stai Fucile Prendi Ma Perché Ci Sono Rivolta Sti Zombie Mezzicolo Dove Dove E Qui Oh No No Mori Mori Pezzetto Maro Raga Mio Puppi Tutto L'Uccello Maronna Raga Mi So Cagato Sotto Per Troppe Volte Maronna Raga Lei Proprio Sabe Chi Cato Era Quella Tipo Io Detesto Raga Già Questo Gioco Lei Proprio Terminare A Per Questo Pantone Juan Et Tra Io Non Romani Da Porta Io Seppi Oddio Ti Non C'è Tu Raga Andiamo In Usciamo Di Qui Posso Chiudare Porta Grazie Qui Raga Non Non Più Ma Allora Raga Sto Posto È Troppo Il Qui Allora Raga Abbiamo Solo Due Colpi Nuove Munizioni Cure Medikit Per me E Un altro Medikit Buce di Cura Eh Raga Sono pronto Tutto Oh Era per me Ma Non mi ha toccato Sotto Però Piano Con il tono Che Già Mi ha fatto Spagnare Ecco Premo Ti Permette Ok Meno 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 Che La cura Me Lo Sono Chiamato Non So Raga Se Finirà Mai Questo Video Ok Che Quanto Devo Spazionare Ancora Raga Questo Posto Io Raga Non so Qui ci Sarò Già Passato Allora qua ci sono passato Qua no Mamma mia raga Che caga Munizioni Ragazzi Ma io Guarda ci sono munizioni Raga mi sono piuta qui Attola Attola sudore Ma meno me che non c'è nessuno Chiudiamo la porta Ok raga ho di nuovo i tre colpi Ma dove posso trovare Una volta Mi serve raga Una volta Chiudiamo la porta Per cortesia Chiudi Bravissimo Allora qua ci sono passato Allora E' figo raga che c'è pure un abuso Ok raga Questa è l'ultima casa rimasta Io i fuggi e' pronto Pronto Permesso Sono il consegno a pizze Raga Chi cacchio è stato C'è un tefo che squilla Chi cacchio è stato Guarda gli amici Guarda gli amici Bello E rispondo Santa Maria di mia nonna Che caga Io di là sta porta Mi parevano a cagare E no Quella faccia di due Munizioni munizioni Venite da papà Sai Oh cazzo Oh Ho sottolato Dele chiavi Si delle chiavi Non è il solito sia Ho sottolato Ho sottolato Delle chiavi Oh no Di nuovo No Che a me Dero spe Ho speccato un colpo Te Ma muori No 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 Ho visto Quasi i tuoi colpi Fanno male Raga Niente Allora Scusate Un po' Grazie. Ragazzi scusate se avevo chiuso il microfono, non c'è niente, andiamone in. Ragazzi ho le chiavi, forse non serve il cotolato, allora chiudiamo la porta e per capire sta chiave è che cosa. Ok ragazzi ho preso quello che ci serviva e andiamo via. Ste chiavi serviranno a qualcosa, torniamo indietro. Ragazzi sono nella cacca, ho po', ho solo due munizioni, la cura 80% è buono. Ma allora ragazzi non so se ce la farò a continuare ancora per molto, torniamo indietro per vedere se lei sta. Devo trovare qua, allora tu stai bene? Sì. Mi chiedeva quell'altro povero cristiano come sta. Mamma raga, non so raga se ce la faccio a continuare, già sto cagato sotto troppo. Devo riamandare. Raga meno male. Raga spero che quel stico puoi finire, raga aspettate un attimo. Raga meno male. Raga, tu visi Che cazzo lo è? Quei Bigfoot Ma allora è più grosso, ho finito le munizioni e non so raga come continua Vediamo se posso girarla raga Non lo sapevo Corigliata Non sapevo, sapevo, non era mai una buona idea Corigo Il tuo scimmione Raga, diamo un'ina che forse andiamo da... Cazzo Raga, diamo un'ina che forse andiamo da... 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 Raga... Raga, diamo un'ina che forse... Raga... 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 E qua è una storia, vediamo se qualcuno prova a fregare, vettevi per preparare l'arma che se no non è ben nulla, ma guarda qui, perché non posso girare ritorno a questa casa, maledetta? Scusate che se avevo spretto un po' il microfono e mamma che mi ha dato una sorta di qualche vitamina che mi fa venire la nausea allo store. C'è un'altra casa raga, per favore dimmi se c'è qualche munizione o... niente, qua non c'è un bel niente, raga vi dico io non ce la farò. ... 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 riuscito a recuperare una sorta di leva raga, visto il video mi viene da lungo lungo raga, ma ne va la pe e seppi devono parlare qua, raga ma io se chiudo i video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti